Da quattro anni commerciavano piante e fiori a prezzi decisamente stracciati, spiazzando così la concorrenza. Per farlo però c'era un trucco, evadere le tasse. Una volta scoperti dalle fiamme gialle, avrebbero dichiarato di essersi dimenticati. A finire nei guai due aziende del Valdarno, che avevano evaso circa un milione di euro. I due imprenditori denunciati che si occupano dei trasporti, commercio e coltivazione di piante e fiori, stando a quanto ricostruito dalle fiamme gialle, a fronte di ricavi conseguiti, avevano messo per bene quattro annualità di presentare la dichiarazione dei redditi. Dimenticanza oppure difficoltà economiche, queste sarebbero le motivazioni dichiarate dai titolari delle ditte ispezionate. I finanziari sono riusciti a scoprire i due furbetti dell'erario, seguendo le tracce delle fatture che avevano emesso a ignari clienti. Poi, attraverso l'incrocio delle risultanze delle numerose banche dati in uso al corpo, sono stati eseguiti due controlli fiscali, attraverso i quali sarebbe stato ricostruito il reale giro d'affari completamento occultato al fisco. Le due aziende dal 2013 al 2016 avrebbero evaso circa un milione di euro, tra imposte sui redditi ed IVA. Le fiamme gialle hanno così segnalato i due evasori totali, riproponendo sui loro patrimoni immobiliari e immobiliari l'applicazione di misure cautelari a garanzia del credito vantato dall'erario.